Nel meridione d'Italia la presenza di comitati di quartiere eletti dei cittadini si conta sulle dita di una sola mano. Per questo l'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale di Mendicino alle porte di Cosenza si pone all'attenzione mediatica come elemento di novità. 43 nel complesso di candidati, nutrita l'affluenza, alle urne si sono recati 1835 elettori pari al 23,62% degli aventi diritto. Realizziamo una bella iniziativa che volevamo da tanto tempo e che in questi anni abbiamo istituzionalizzato, cioè l'elezione dei comitati di quartiere. Si dovranno occupare appunto del proprio territorio, impegnarsi per accrescere la socialità, organizzare eventi, iniziative, occuparsi dell'ambiente, del territorio in cui vivono, rendere la nostra città sempre più bella. Queste sono le finalità dei comitati di quartiere e io vorrei ringraziare oggi i presidenti di seggio, i segretari, gli scrutatori, tutti come i candidati volontariamente impegnati. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Salvatore Bruno per la Cineus 24